Il peggio, la messa in mobilità di 500 lavoratori è stato scongiurato. Sono tornati da Roma con un bel punto in tasca i 200 lavoratori della nuova Pansac impegnati in questi giorni nella partita più difficile. Accanto a loro, arrivati in pullman nella capitale per il tavolo convocato dal Mise, c'erano i rappresentanti sindacali, i sindaci di Mire Portogruaro, alcuni parlamentari veneti e l'assessore Polino Danna, che oggi è più rilassato e soddisfatto. È ritornato il buon senso, il buon senso da parte di tutti e soprattutto del nuovo CDA della nuova Pansac. È stato un ottimo risultato, chiaramente la mobilità è stata ritirata, era quello l'obiettivo principale. Sappiamo che ci sono delle criticità nei siti della nuova Pansac, però, ripeto, questa forma di allineamento istituzionale che stiamo portando avanti, secondo me, è produttivo. Nessuno stabilimento chiuso, dunque, nessuna lettera di mobilità e l'attivazione per un anno della Cassa Integrazione straordinaria, cioè non finalizzata l'accessazione dell'attività produttiva. Ovviamente ci sarà bisogno di un tavolo tecnico tra sindacati e lavoratori per stabilire nel dettaglio le modalità della CIG, ma ciò che conta è che il Consiglio d'Amministrazione abbia rivisto le proprie posizioni e si è disposto a puntare sulla riqualificazione di una delle aziende più importanti dell'area veneziana. Noi crediamo in questo piano di riqualificazione e crediamo anche nel fatto che la Cassa Integrazione sia la dimostrazione che i nostri lavoratori sono una risorsa assolutamente fondamentale che meritano rispetto, ma meritano soprattutto dignità. E quindi arrivare a decisioni come quelle che erano della mobilità, io credo che fossero la dimostrazione di un'assenza di rispetto e di dignità. Grazie.